auguratemi buona fortuna ciao a tutti oggi nuovo video che non ho mai fatto prima d'ora sul canale ovviamente con il mio aiutante preferito sempre presente ed è una cosa che vi anticipavo anche un paio di giorni fa perchè è stato un po' elaborato questo video comunque ve lo anticipavo già un pochino su instagram stories si tratta di un esperimento nel senso che a me sembra molto utile e anche molto carina da vedere come tipologia di video quindi mi piacerebbe che diventasse una nuova rubrica per il canale però visto che appunto è un esperimento voglio aspettare di sapere cosa ne pensate voi e poi se mi darete l'ok il prossimo video del genere vorrei provare a farlo in un'altra tipologia di negozio in quel caso di abbigliamento però insomma non vi ho ancora detto nulla praticamente oggi proveremo a svelare e smascherare i trucchetti delle commesse di sephora quindi tutti gli ex che sono diventati virali tramite tiktok credo ma ho visto che proprio in generale sul web ci sono tantissimi articoli o comunque tantissimi blog in cui sono elencati vari trucchetti o comunque varie strategie che si possono mettere in atto all'interno di diversi negozi in questo caso noi cominceremo con sephora e che sono cose che in teoria non si sanno ma sa solo chi lavora all'interno io ho guardato infiniti video di questa tipologia nei canali americani che seguo e ho notato che alcuni trucchetti sono più funzionanti di altri e soprattutto sono curiosa di capire visto che la maggior parte li ho cioè tutti praticamente li ho trovati quasi tutti solo in inglese e voglio capire se anche nei negozi che ci sono da noi quindi nella versione italiana di queste catene funzionano ugualmente dirò prima di iniziare a elencarli e testarli mi raccomando ricordatevi di lasciarmi un like per vedere appunto altri video di questa tipologia e far sì che diventi una vera e propria serie se non forse ancora iscritti mi raccomando iscrivetevi al canale ricordatevi di attivare la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che esce un nuovo video e poi se vi va nell'info box c'è il link per seguirmi su instagram partiamo dal trucchetto numero uno che noi senza saperlo avevamo già testato tipo a maggio dell'anno scorso forse anche prima e poi successivamente anche verso la fine del 2019 perché questo primo trucchetto riguarda proprio un servizio che c'è in store quindi il servizio di make up nello specifico quello da 15 minuti che se vedete sul sito è diviso in molteplici sezioni nel senso che ci sono 9 mini makeover da 15 minuti ciascuno gratuiti di cui possiamo usufruire tutti senza obbligo di acquisto di prodotti e c'è per dire il servizio dedicato agli occhi sia proprio per lo sguardo che per l'eyeliner il casual eyes amazing brows glamour lips insomma ci sono 9 servizi diversi che si concentrano principalmente su una parte del viso però che consentono gratuitamente di avere un refresh del look senza necessità di acquistare nulla noi insieme se vi ricordate avevamo anche provato il servizio quello che costa 30 euro che però per chi ha la carta oro è gratuito cioè c'è un servizio make up da 30 euro che corrisponde a circa 45 minuti un'ora di trucco completo gratuito proprio ogni mese questo trucchetto secondo me a parte che l'abbiamo testato ma è super super promosso e molto molto utile passiamo al secondo trucchetto di oggi devo dirvi la verità mi sono vergognata parecchio perché era una cosa che non avevo mai fatto in negozio e non sapevo neanche se fosse possibile farla perché a me è sempre capitato così nonostante l'importo del mio scontrino non ho mai ricevuto e ve l'ho sempre detto non mi è mai capitato di ricevere chissà quali campioncini invece secondo questi trucchetti la cosa che bisogna fare è semplicemente chiedere e si può avere un campioncino di qualunque prodotto in negozio inizia ufficialmente la nostra missione di oggi auguratemi buona fortuna perché sono veramente molto molto preoccupata e molto in ansia anche se mi rendo conto che ve lo dicevo anche nelle storie non c'è così tanto motivo perché cioè non sto facendo niente di male vado semplicemente a chiedere delle cose però visto che la maggior parte sono dei trucchetti totalmente insoliti che non conoscevo assolutamente che non ho mai neanche avuto l'idea di provare a fare non so bene quale sarà la reazione ma lo scopriremo tra pochissimo non so bene quale sarà la reazione ma lo scopriremo tra pochissimo e non so bene quale sarà la reazione ma lo scopriremo tra pochissimo avevi già visto un colore in particolare perché non abbiamo molti colori e questo trucchetto è promosso al 100% cioè ho qui con me veramente tantissimi campioncini me li hanno messi all'interno di alcuni fazzolettini però c'è proprio scritto sopra il campioncino di che cos'è quindi ho il campioncino del primer di Benefit quello nella versione Pearl perché l'altro purtroppo quello nuovo non avevano ancora il tester perché in sostanza i campioncini li possono fare me l'ha spiegato alla fine solo se c'è il tester di quel determinato prodotto esposto e nel caso del Sephora in cui sono stata io mi hanno detto che lo possono fare solo per i prodotti liquidi quindi non rossetti, non blush, non prodotti in polvere per intenderci mentre in alcuni video che avevo visto erano riusciti ad avere anche campioncini di rossetti e altro però insomma mi è andata benissimo perché appunto ho avuto quello ho chiesto il campioncino del fondotinta di Capfondi leggermente più scuro rispetto a quello che sto indossando poi il siero di Estée Lauder, quello Night Repair Intense insomma quello che uso anche per gli occhi però questo qui è viso e poi anche quello di Dior Hydra Life quindi molti molti più campioncini già così rispetto a quelli che avrei mai ricevuto senza chiedere poi io sono stata qui ad Aosta a fare questo test quindi Sephora è un po' più piccolino ma se l'idea vi piacesse farò anche una seconda parte di questo video e nel caso andremo a vedere quanti altri campioncini ci daranno in altri Sephora per dire che ne so a Milano o a Torino comunque trucchetto numero due effettivamente promosso e la cosa ancora più bella è che i campioncini vengono dati gratuitamente così senza bisogno di acquistare nessun prodotto perché io in questo caso non ho assolutamente acquistato nulla ma li ho ricevuti comunque il terzo trucchetto invece tradotto in italiano perché all'estero funziona diversamente ma ho visto anche in Francia per esempio però funziona proprio in modo diverso il sito e quindi anche il tipo di regali, di omaggi sono una cosa totalmente diversa però informandomi meglio per fare questo video ho scoperto che quando si diventa clienti Sephora è una cosa che si può fare solo in negozio quindi purtroppo non basta inserire l'indirizzo email o creare un account sul sito ma bisogna andare fisicamente in negozio nel momento in cui ci si registra e si richiede la propria carta fedeltà quindi quella bianca entro 48 ore si riceve poi un coupon o comunque un codice e ci si può recare in negozio a ritirare uno smalto bianco della linea di Sephora in omaggio abbinato però all'acquisto di un qualsiasi prodotto quindi c'è questo regalo ma è vincolato dall'acquisto di un prodotto io ora non ho fatto questo tipo di test perché ho già la carta oro non avrei sapuccia e non volevo creare un altro account inutilmente però c'è scritto ovunque appunto come abbiamo visto sul sito la cosa che mi ha lasciato un po' perplessa è che tipo ho visto per dire su sephora.com che la stessa cosa quindi se ci si registra eccetera si ricevono in omaggio dei prodotti di Nars in Francia c'era qualcos'altro e non mi sembrava di aver visto che lì ci fosse obbligo di acquisto però comunque è una cosina in più che io per esempio all'epoca quando mi ero registrata e avevo fatto la mia carta fedeltà bianca non sapevo e quindi non avevo ritirato il mio omaggio quarto trucchetto e questo qui mi ha messo veramente molto molto in ansia praticamente stando a quanto spiegano nei vari trucchetti le varie commesse si può fare il reso di qualsiasi prodotto make up anche leggermente utilizzato e testato che è una cosa che effettivamente io sentivo dire anche nei video delle ragazze in modo molto tranquillo l'avevo preso ma poi l'ho restituito perché non mi era piaciuto nelle ragazze sempre americane qui in Italia io non ho mai avuto occasione di fare nessun reso da sephora quindi era proprio la mia prima volta in questo senso ed ero super super preoccupata ma io lo sono in generale quando devo andare in negozio a fare i resi anche se ho lo scontrino in questo caso il trucchetto dice che non serve nemmeno avere lo scontrino basta andare in negozio con questi prodotti acquistati non si sa quando a questo punto perché senza scontrino come si fa a saperlo e chiedere di restituirli in cambio o di cambiarli o una cosa del genere quindi ho provato a fare anch'io così questi qua sono i prodotti di cui vorrei fare il reso e ci sono due correttori Nabla che avevo preso quest'estate quindi li ho comprati online però l'ordine non è assolutamente recente anzi se non sbaglio è di agosto addirittura non ho assolutamente lo scontrino anche perché era online e invece questi qua sono due acquisti più recenti ve li avevo fatti vedere sicuramente anche a dicembre nelle Instagram Stories e sono due prodotti di Laneige questo è per gli occhi però alla fine non lo sto utilizzando perché ne ho scoperto un altro fantastico di Estée Lauder dovrebbe essere e questa crema invece non mi convince per nulla quindi a questo punto direi di andare a vedere se vabbè si il sacchettino non c'entra nulla ma era l'unico che avevo andiamo a vedere se ci fanno fare il reso nonostante non ci sia lo scontrino come specificavano nei trucchetti che ho visto posso chiederti nel senso fare il reso? ma sono prodotti che non hanno neanche la scatolina e ce l'avevano forse ma li ho presi a... non posso? non possiamo no 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 chiedevo solo perché so che a volte lo fanno no no senza la scatola non si può ok va bene almeno la prossima volta so di tenerla prima di... brava quello è lo scontrino importante ma tanto è online quindi si vedeva nel mio... io non ero un problema purtroppo senza spazio faccio ancora un giusto grazie trucchetto assolutamente bocciato a parte che veramente ero in ansia mi sono tipo vergognata tantissimo che so che non c'è niente di male però non lo so mi sembrava di fare qualcosa di non giusto loro sono state carinissime e gentilissime quindi è tutta una roba mia che mi agito per nulla però mi hanno detto che bisogna assolutamente avere lo scontrino nel mio caso si trattava di acquisti online quindi magari sarei riuscita a farle vedere dallo storico dell'ordine che li avevo acquistati però la cosa che mancava nei miei prodotti è che non c'era più il packaging secondario quindi non ho potuto fare il reso ma in ogni caso il trucchetto non avrebbe funzionato perché non c'era lo scontrino quindi assolutamente per restituire qualcosa bisogna avere lo scontrino trucchetto non promosso quinto trucchetto anche questo mi aveva stupita tantissimo non lo sapevo però stando a quello che spiegavano è possibile farsi spedire direttamente a casa gratuitamente senza importo minimo di spesa un prodotto se non è presente nell'allestimento in negozio quindi ho fatto il mio tentativo andando abbastanza a colpo sicuro perché determinati prodotti lì non li hanno e ho chiesto visto che non ce l'hai qui è possibile fare l'ordine insieme e quindi farmelo spedire a casa non hanno più il brand che volevo prendere io quindi adesso chiediamo se me lo possono ordinare e far arrivare mi conviene fare l'ordine insieme a casa sì esatto sì quello che vuoi fare possiamo ah ma noi no dovresti andare qui sul sito o che normalmente arriva direttamente a casa lei mi ha detto che assolutamente no è una cosa che va fatta direttamente dal sito e a quanto pare in negozio questo tipo di servizio non è attivo sì scusatemi se l'audio tentenna un pochino nelle riprese però appunto le ho fatte come al solito con la fotocamera nascosta c'era la musica quindi molte cose le ho ma sarà difficile inserire tutti i dialoghi interi nel video perché non riesco a isolare la mia voce dalla musica di sottofondo e sapete che sennò youtube banna il video quindi farò del mio meglio perché ci siano tutti i dialoghi ma se non sentite benissimo è solo per questo motivo comunque assolutamente questo trucchetto bocciato perché in Italia perlomeno non funziona ho visto nei video stranieri che invece è una cosa che fanno tranquillamente basta andare in cassa ordinano il prodotto e c'è il vantaggio che la spedizione rimane gratuita indipendentemente dall'importo minimo di spesa io per fortuna però con la carta oro in generale ho sempre la spedizione veloce compresa qualunque cosa sia ma volevo andarlo a testare per vedere se effettivamente era reale e no non lo è sesto trucchetto se non avete ancora ritirato il vostro regalo di compleanno ma è tipo non è neanche il vostro compleanno ed è passato un sacco di tempo basta andare in negozio e chiedere direttamente di ritirarlo non ha funzionato nel mio caso nel senso che il buono per il compleanno che si riceve non so se lo ricevono tutti o solo chi dispone della carta oro comunque di solito il buono regalo consiste in 30 euro da spendere in negozio io mi ero dimenticata totalmente al mio compleanno e quindi non ne avevo effettivamente usufruito però questo tipo di sconto vale solo per tre mesi compreso il mese del compleanno quindi le ragazze sono state gentilissime perché hanno ugualmente provato a chiamare il servizio clienti cosa che tra l'altro avrei dovuto fare io per questioni di privacy però ero lì con loro quindi bastava che me lo passassero avrei autorizzato tutto ma alla fine sono uscita a mani vuote quindi non avevo il mio buono regalo perché era trascorso troppo tempo sapete che io sono nata il 6 settembre e se non si ritira in quel lasso di tempo il regalo di compleanno ciao ciao quindi per me questo trucchetto non è assolutamente promosso e ultimo trucchetto per quanto riguarda Sephora per oggi non riguarda più il negozio fisico ma lo store online che devo dire è quello che utilizzo di più in assoluto io personalmente mi trovo benissimo spedizione veloce il giorno dopo ricevo tutto e questo vi dico già che funziona ma da noi è secondo me un po' più limitato rispetto appunto per dire alla Francia infatti voglio poi andarli a provare anche da Sephora là perché secondo me funzioneranno molto di più e anche rispetto ad altri posti tipo credo che fosse inglese o americana comunque insomma il trucchetto consiste nel controllare sempre molto bene la sezione delle offerte sul sito perché per esempio nel giorno in cui io ho deciso di fare l'ordine c'era questa promozione per cui con una spesa minima di 69 euro e inserendo il codice beauty detox al momento del checkout oltre ai classici campioncini perché purtroppo sul sito nel momento in cui si sta completando il carrello si possono aggiungere massimo due campioncini e c'è anche sempre una scelta molto limitata a mio parere in questo caso si riceveva in omaggio un set con quattro mini prodotti per la skin care quindi io sono qui con il mio online che ovviamente superava l'importo di 69 euro ne ho approfittato tanto erano cose che volevo prendere e nel mio pacchettino ci sono addirittura due scatolette mi ero fatta fare come sempre la confezione regalo ma perché trovo molto comode e molto riutilizzabili le scatole di Sephora andiamo ad estrarre tutto qui mi hanno dato per esempio 5 euro di sconto da utilizzare sul sito della Feltrinelli questo non c'entrava e qui invece ci sono allora intanto i due campioncini quelli classici che si possono scegliere appunto inserire nel carrello in fase di ordine io ho preso questo campioncino di Too Faced del fondotinta quello Peach Perfect e poi non mi ricordavo di aver preso questo campioncino di profumo comunque è di Emporio Armani Stronger With You Freeze ma è da donna o da uomo questo non mi ricordavo di averlo inserito credetemi e nemmeno questo che è il Black Opium di Stenoran anche perché avevo talmente tanti campioncini dopo il calendario che vabbè non mi ricordavo di aver inserito questi due prodotti ma non c'è altro se non i tre prodotti che ho acquistato io ho preso di Dolce Gabbana questa nuova linea di rossetti che è la linea The Only One ma non ho preso due rossetti bensì ho preso un porta rossetti ce ne sono tantissimi sul sito io ho voluto prendere questo qui che è fatto tutto in pizza all'interno sembra comunque molto resistente nonostante sia in plastica ed è allo stesso tempo leggero quindi primo impatto mi piace e come rossetto ho preso il rossetto sempre The Only One il Luminous Color Lipstick nel numero 130 Sweet Honey e andiamo a vederlo dal vivo perché tutte le volte poi io su Sephora mi faccio ingannare un po' dai colori ma speriamo in bene non sta neanche uscendo ok non ha il tappo ma ha solo questo mini coperchietto con cui è chiuso il colore l'ho sicuramente azzeccato perché sono i nude che piacciono a me e a parte che è bellissimo è fatto molto molto bene c'è la scritta D&G c'è la scritta D&G anche qui andiamo a mettergli il suo tappino ed ecco il mio rossetto personalizzato che appunto ho ordinato sul sito e poi già che mi serviva ho ripreso il correttore questo qui è il full cover di Makeup Forever nella colorazione 06 quindi una colorazione abbastanza scura ma non troppo va bene per me in questo periodo e mi ci sto trovando molto molto bene questo qui l'avevo scoperto appunto in occasione di una delle recensioni on the road in cui sono andata a farmi truccare da Sephora e devo dire che l'ho poi comprato e ricomprato ma a parte questo quello che mi premeva fare era capire quali sono le 4 mini size di prodotti di skin care che c'erano appunto in regalo sul sito vediamo cosa c'è nella scatolina uh ho già visto una cosa che mi ispira un sacco allora c'è una mini size della crema di All Air Skain vabbè lo sapete che non lo so pronunciare e per me già questo è super top perché sapete che avevo ricevuto in omaggio dall'azienda vi avevo messo delle storie che era prima di Natale proprio la full size della crema e mi sto trovando benissimo io di questo brand uso anche il primer per il fondotinta sempre vitamina C e il contorno occhi e questa qui è proprio la crema Sea Rush è un pochino più gelatinosa forse rispetto alla mia quindi devo provarla in realtà non è la stessa ancora meglio così posso provare una cosa in più poi di Shiseido dovrebbe essere o no Shiseido secondo me altra mini size da 10 ml è la Bio Performance Lift Dynamic Cream quindi una crema sempre per il viso effetto lifting mai mai provata quindi curiosissima una maschera per il viso del brand Belif Belife non lo so questa qui è l'acqua bomb sleeping mask ne ho sentito già parlare quindi sono molto molto curiosa di provarla questa è da 5 ml la provo già stasera e ancora per finire della marca Origins Chic's and Balance questa qui ah questo qui è una mini size di un detergente per il viso una mousse detergente si non ha nomi specifici questa qui assolutamente non la conoscevo cioè ho visto il brand lì da Sephora ma non non ho mai avuto modo di provare niente quindi praticamente stando attenta a quello che c'era scritto sul sito e avendo comunque già intenzione di farci un ordine semplicemente inserendo il codice sono riuscita ad avere un bel po' di campioncini in più rispetto a quelli che avrei avuto abitualmente quindi anche se non c'è una vera e propria sezione in cui ci sono tutte le offerte come succede all'estero dove per dire se compri la crema X ricevi il regalo in automatico anche Y o cose del genere ne hanno veramente tantissime c'era una pagina infinita non l'ho neanche guardata tutta però pur non essendoci quella sezione anche in Italia succede di trovare questo tipo di offerte basta solo fare un po' di attenzione quando si sta facendo l'ordine cosa che io sinceramente non ho mai fatto questa è la prima volta che approfitto di un coupon sconto e niente quindi ce l'abbiamo fatta questi erano tutti i primi trucchetti di questo che spero che sia il primo video di una lunga serie e non vedo l'ora di sapere cosa ne pensate soprattutto perché sono molto gasata dei trucchetti spero che funzionino che appunto ho intenzione di testare in questo misterioso negozio di abbigliamento che tanto mi conoscete e già potete immaginare di quale si tratta ovviamente adesso è il vostro momento quindi sbizzaritevi nei commenti qui sotto fatemi sapere se conoscevate questi trucchetti se ne avevate già usufruito e soprattutto se ne conoscete altri così nel caso in cui voleste vedere anche la seconda puntata di questa serie andremo a testare anche i vostri trucchetti io comunque direi che anche per oggi ho dato quindi ci siamo smetto di parlare vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani con un nuovo video ciao ciao